Novembre è il mese delle corse campestri e in Lomellina il calendario è tornato a pieno regime. La voglia dei ragazzi di correre all'aria aperta dopo gli anni della pandemia è talmente tanta che sono stati aggiunti nuovi appuntamenti. È il caso ad esempio del cross del Parco dei Tre Langhi di Gravellona, tenutosi la scorsa domenica che è appena alla seconda edizione. In un percorso suggestivo, tra i prati che circondano i laghetti del parco, si sono sfidati 200 giovanissimi atleti, con le classi dal 2007 al 2017 fino addirittura alla gara di 300 metri riservata ai pulcini. L'ambizione è di far diventare il cross del Parco dei Tre Langhi una classica, così come punta a proporsi come una manifestazione importante il neonato cross città di Vigevano. L'esordio per la prima edizione di domenica 20 novembre è stato curato da Atletica Vigevano ed Escape Team. In questo caso si è scelto di sfruttare i terreni attorno al pallasport dei piccolini per creare percorsi destinati alle categorie allievi, junior, promesse, assolute e master. In novembre delle corse campestri proseguirà poi con il trofeo Pensa nella consueta cornice del Parco dell'Istituto Negrone di Vigevano. La gara, programmata per giovedì 24, è riservata alle scuole secondarie di primo e secondo grado. La manifestazione raggiunge quest'anno un traguardo importante arrivando alla sua cinquantesima edizione.